ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video mi è arrivato un pacchetto un paio di giorni fa ed è il mio acquisto da frick emporium sono solo poche cose però ci teniamo a farvele vedere perché frick emporium è uno di quei negozi dove compro da anni veramente da quando iniziato a creare quindi non lo so tipo sei anni fa anche di più forse e non mi smentisce mai e sempre sono sempre fantastiche le ragazze di qua c'è un pacchettino con degli omaggi lo apriamo subito abbiamo il bigliettino di frick emporium invece il sito e tutto è quello di sparkly treasure shop penso collaborino in questo periodo sono entrambi ottimi negozi veramente allora c'è un pezzettino di angelina film che è sempre gradito bellissimo e poi c'è un ciondolo gigantesco dei doni della morte fantastico delle gestrine piccolina un ancora e delle perline che sembrano tantissimo caramelle le adoro grazie mille ragazze siete state veramente gentilissime a regalarmi queste immagini passiamo a quello che ho acquistato io allora questo principale era perché mi erano finite le catenine quindi ne ho comprato un po e anche gli anellini per fare i portachiavi ne ho fatto una bella scorta questi sono bellissimi perché sono già con il pezzo di catena montato così vi basterà mettere il ciondolo e qualche decorazione qualche perlina insomma è già completo di suo pezzo forte di questo acquisto è il mio primo pigmento olografico almeno questo è camaleonte e dovrebbe dare mille riflessi colorati già ho visto l'ho visto in azione perché flavia la ragazza una delle ragazze di fricca emporium ha un canale youtube caso mai vi lascerò il link nell'info box e in pratica lei fa i video dove prova appunto diciamo il loro materiale quindi vi vedete il video se vi piace quello che ha creato potete acquistare nel loro sito tutto quello che occorre per ricreare diciamo qualcosa di simile un effetto simile quindi ho visto il video dove utilizzava questo e ho subito voluto provarlo perché l'effetto mi piace un sacco per l'occasione ho comprato anche questi due stampi che sono due lune una e tonda e l'altra piatta sono lucidissime non vedo l'ora di testarle proprio con questo pigmento qui quindi questi sono tutti i miei acquisti in realtà non erano molti ma ci tenevo a farveli vedere perché fricca emporium è uno di quei negozi che mi è rimasto nel cuore negli anni perché veramente tanto 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 che ci compra e non mi ha mai deluso sono sempre rimasta soddisfatta c'ho un bellissimo rapporto con la ragazza di fricca emporium e quindi spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile in qualche modo mi raccomando fate un salto nel canale youtube di flavia e andate a vedere fricca emporium se siete creative perché secondo me c'è un mondo di di creatività pronta per essere scoperta e se questo video vi è piaciuto lasciato un like se volete restare sempre aggiornati dei miei video iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video dove proveremo insieme questo pigmento lo proverò per la prima volta con voi quindi al prossimo video a presto ciao